L'infermiere da denunciante ha denunciato nella Sala Rossa del Castello di Barletta giornata formativa organizzata dal PAS Vibat per parlare di aspetti legali, timesheet ed emansionamento. A relazionare il professor Mauro Di Fresco, presidente dell'Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico e lui a denunciare l'attuale ruolo dell'infermiere trasformatosi in una sorta di tuttofare. Stanno aumentando a dismisura i processi contro gli infermieri perché ormai essendo un infermiere professionista se lo ricordano che l'infermiere è un professionista autonomo e importante per l'assistenza durante il processo penale. Poi purtroppo se lo dimenticano invece negli ospedali. I infermieri quindi da un lato in ospedale soprattutto vengono utilizzati come tappabuchi, io utilizzo un termine che potrebbe dare fastidio, noi dico sguatteri, effettivamente vediamo un infermiero che fa tutto, fa di tutto. Poi però quando deve rispondere per, diciamo, da l'une condotte che vengono rilevate in sede penale, allora nel processo, quando deve essere condannato in maniera esemplare, allora si ricordano che è un professionista intellettuale, in base all'articolo 2229 del Cioci Civile, allora per punirlo in misura maggiore, dicono che essendo un professionista autonomo al pari del medico, bisogna combinare la sanzione penale più dura che ci sia. Inevitabile l'appello rivolto a chi è chiamato a intervenire per tutelare una professione oggi più che mai sfruttata e sottovalutata. Se vogliamo migliorare l'assistenza al paziente, facciamo in modo che un infermiere si possa dedicare a lui, cioè al paziente, non a tutto l'ospedale, andando a fare addirittura in alcune circostanze il cuoco. Fanno prendere la laurea a queste persone per poi ridurle veramente a fare lavori inutili, cioè lavori che possono fare chiunque, che può svolgere chiunque. Una tematica quanto mai attuale per questo meritevole di una particolare attenzione, di cui la decisione dell'IPAS Vibat è di dedicarvi un'intera giornata di corso di formazione. Parliamo anche di demazionamento, perché il nostro collegio, quindi il nostro ordine, è stato tra i primi in Italia a studiare il fenomeno in questa provincia. Abbiamo svolto nel mandato precedente un lavoro proprio per coinvolgere tutti gli infermieri e cercare di capire il fenomeno, quanto era grande. È diventata una prassi più che emergenziale, soprattutto negli ultimi anni in cui ci sono stati tagli lineari alla sanità, per cui manca personale di supporto e gli infermieri si ritrovano da soli a dover affrontare tutte le fasi dell'assistenza infermieristica.